Oggi su Business24 Pastelli è un'azienda che si occupa della produzione di abbigliamento sanitario ma assolutamente diverso dall'idea comune che noi abbiamo di questa divisa. Puntiamo su una personalizzazione estrema, su dei tagli assolutamente particolari. Vogliamo che il cliente che indossa uno dei nostri camici sia veramente unico anche perché è un professionista che lavora intensamente e si merita di essere diverso dagli altri. A questo ovviamente non ci fermiamo solo alla ricerca stilistica ma diamo un prodotto di una qualità che è rinomata fortunatamente e apprezzata e che veramente dura una vita. La versione integrale di questa e di altre interviste su Business24 la TV del lavoro, le news dal mondo delle imprese e del business raccontate dai suoi protagonisti. In onda lunedì alle 21 sul canale 135 o su business24tv.it